Buongiorno cari amici elettronauti, oggi vi ho portato a Padova per scoprire da vicino un mezzo di trasporto molto speciale ma prima di cominciare mi raccomando iscrivetevi al canale e il vostro sostegno per me è molto importante ma quindi seguitemi Eccoci dunque qui davanti ad un minibus completamente elettrico concepito per ridurre il traffico e soprattutto l'inquinamento nei centri urbani presentato per la prima volta a febbraio del 2018 a Dubai L'idea iniziale è stata quella di Tommaso Gecchelin, padovano doc che già nel lontano 2012 ha iniziato a concepire un'idea di trasporto pubblico, elettrico, autonomo e modulare Il suo progetto ha ottenuto un grande eco, tant'è che è finito su testate importanti come Bloomberg, CNN, Forbes, Guardian, Wire, Il Corriere della Sera, Repubblica e moltissime altre e grazie alla sua idea ha trovato un importante partner in Karim Un servizio di prenotazione basato su app molto diffuso negli ermirati arabi dove Next potrebbe trovare presto una pratica applicazione dal momento che l'ermiro al Maktoum vuole rendere entro il 2030 al 25% di tutti i trasporti di Dubai elettrici e senza conducente Questo simpatico modulo ospita sei sedili di cui uno dedicato al conducente che in una fase iniziale sarà presente mentre in piedi i passeggeri per ogni vagone potrebbero essere addirittura una quindicina E se ve lo state domandando sì è giusto chiamarlo vagone visto che si tratta di un mezzo di locomozione modulare unibile quindi ad altri fino ad un massimo di ben 15 vagoni che tra di loro possono avere un collegamento fisico rigido o un collegamento virtuale chiamato virtual link che dovrebbe stando a quanto dicono avvicinare o separare leggermente i singoli moduli in base alle condizioni del traffico e al tipo di strada che si sta percorrendo Molto comoda sarà anche la possibilità di ridistribuire i passeggeri nelle varie unità accodate ai vagoni in base al percorso che andranno a fare Infatti potrà essere che per un certo tratto della corsa più moduli si uniranno mentre per altri tratti invece si separeranno raggiungendo così destinazioni diverse Ogni singolo vagone è quasi un cubo misurando 2,67 m di lunghezza 2,35 m di larghezza e 2,90 m in altezza e per poter sfruttare appunto tutta la sua configurazione di posti in piedi Inoltre il singolo modulo è anche in grado di ruotare su se stesso di 360 gradi Il comfort poi la sicurezza e la centralità del trasportato sono messi al primo posto Ogni modulo infatti è climatizzato e dotato di porte frontali e laterali scorrevoli e il passeggero potrà accedere all'abitacolo dopo aver prenotato con l'app e oppure andando a scansionare il QR code che è direttamente appiccicato qui Le ampie superfici vetrate consentono di essere quasi in vetrina con enormi benefici per quanto riguarda la luminosità dell'abitacolo e l'interazione con l'esterno Due sono i tipi di propulsore elettrico disponibili Il base sviluppa la potenza di 24 kilowatt e consente al singolo modulo di toccare i 70 chilometri orari e di superare pendenze dell'8% In alternativa è disponibile un'unità elettrica da 100 kilowatt in grado di arrivare a 90 chilometri orari e di superare addirittura pendenze del 15% In entrambi i casi impacco batterie sarà da minimo 20 kilowattora ma potrà raggiungere opzionalmente i 60 garantendo un'autonomia massima fino a 300 chilometri Inoltre le batterie possono essere caricate e montate sul modulo o all'esterno di esso Sono infatti previsti anche stazioni di sostituzione degli accumulatori che richiederanno un tempo di soli due minuti per smontare e montare manualmente il pacco batterie In entrambi i casi le ruote motrici sono due e i valori di velocità aumentano sensibilmente quando i pod vengono inseriti ad altri moduli Per quanto riguarda la mobilità autonoma c'è da dire che il modulo Next Future Mobility ne sarebbe già dotato ma siccome per il momento ancora la guida autonoma non è legalizzata ci sarà la possibilità di metterne nel vagone di testa un pilota Chiaramente ciò significa una marea di sistemi di ausilio e la guida tra radar a lungo raggio, LiDAR, sensori di avvicinamento, GPS eccetera ma Next potrebbe essere destinato non solo allo spostamento pubblico di persone potrebbe anche essere utilizzato come navetta aeroportuale o come trasporto di merci e quindi utilizzato anche per le consegne di e-commerce o perché no potrebbe essere utilizzato dal portalettere al posto degli scooter Già diverse università e qualche conferenza internazionale specializzata si è occupata del fenomeno Next ed ha espresso tutti gli apprezzamenti del caso relativamente al risparmio di carburante, alle importanti riduzioni dell'inquinamento alla contribuzione dello sviluppo di una mobilità sostenibile eccetera eccetera oggi abbiamo l'occasione di parlare con l'ideatore del progetto Tommaso allora ciao intanto grazie per averci invitato per farci vedere questo bellissimo progetto ma a che punto siamo? Com'è che vanno i lavori? Grazie a te Matteo i lavori vanno benissimo sui veicoli che state vedendo in questo momento abbiamo fatto la sperimentazione su Padova e poi ne abbiamo altri 7 con cui stiamo facendo una sperimentazione a Dubai siamo stati anche all'Expo in Dubai i risultati sono stati ottimi qui a Padova abbiamo fatto non solo giri in questo parcheggio ma abbiamo fatto dei giri proprio su strada pubblica abbiamo agganciato e sganciato i moduli su strada pubblica e i piani sono per fine anno di avere questi mezzi completamente omologati e comincia la produzione di serie wow siete arrivati quasi alla fine questa è la terza generazione in realtà perché abbiamo dei moduli di varie generazioni diverse abbiamo tolto alcune feature perché per esempio la guida autonoma non è ancora legale certo perché i sistemi di sterzo by wire non sono ancora facilmente omologabili ma questo veicolo qui questa versione sarà quello alla fine omologato ok quindi praticamente siamo arrivati nel momento giusto perché adesso starai pensando un po' al futuro come sarà la mobilità tra qualche anno magari proprio con i tuoi progetti per me tra 5-10 anni intanto la parte di guida autonoma probabilmente sarà sdoganata speriamo e si riuscirà finalmente a rendere questo progetto non solo modulare ma anche autonomo che questo dà moltissime capacità in più al veicolo ma io mi immagino comunque una mobilità che diventerà in parte pubblica ed intelligente come questi moduli qua e la parte invece di veicoli privati saranno sempre più performanti sarà sempre più come è successo con il cavallo il passaggio tra il cavallo e la macchina la macchina privata diventerà come il cavallo diventerà uno sport probabilmente e per quanto riguarda il paese secondo te chi è che arriverà per primo ad utilizzare questo tipo di tecnologia? beh probabilmente Dubai perché è stato il primo nostro cliente poi spero l'Italia insomma i test che abbiamo fatto qui i piani che abbiamo fatto di implementazione sulla città di Padua come potrebbero essere su tante altre città quindi io spero che potremmo essere profetti anche in patria certo è vero c'è ragione io pensavo anche forse un po' all'America, alla California comunque anche loro si stanno spostando tanto sulla guida autonoma stanno facendo tante insomma sì diciamo che lì il mercato del trasporto pubblico fa sempre un po' di fatica negli Stati Uniti la macchina privata forse rimarrà ancora ancorata nella mente delle persone vedo che c'è qualche adesivo di Volkswagen sì abbiamo fatto una piccola partnership con Volkswagen Group in particolare con una concessionaria che è aperta da poco qui a Padua ed è proprio questo il motivo cioè avere un sistema di mobilità che abbia da una parte il pubblico e quindi il veicolo in cui siete in questo momento e da una parte il privato durante la settimana vado a lavorare con il Next magari il weekend voglio farmi una vacanza in montagna sul lago e allora prendo l'auto e vai è interessante come scambio anche come sinergia tra il pubblico e il privato che secondo me effettivamente rimarrà grazie ma senti ma io so che tu non sei da solo c'è tutta una squadra dietro sì assolutamente è tutto merito della squadra andiamo a vederli? assolutamente vai ciao a tutti sono Edoardo sono System Integration Engineer di Next sono un ingegnere aerospaziale e mi occupo di integrare tutti i sottosistemi del veicolo e fare in modo che tutto funzioni al meglio ciao io sono Nicola Head of Robotics di Next sono ingegnere informatico e mi occupo della parte software di tutto il progetto per quanto riguarda l'allineamento e la navigazione ciao sono Edoardo secondo il più vecchio rispetto a lui io mi occupo di assemblaggio materiale elettrico un'azienda appunto di assemblaggio materiale elettrico a Guia Padova qui in Next sono venuto grazie a Tommy che siamo conosciuti di cui entro anche nella compagine societaria da pochi mesi e ho seguito ovviamente il cablaggio per questo bellissimo progetto e che andrà dappertutto nel mondo ciao io invece sono Francesco sono un neo designer e sono anche l'ultimo arrivato qua a Next però mi sto dando da fare per dare una mano a Tommaso nella parte di progettazione e design del veicolo quindi lui è l'ultimo deve pagare lui praticamente esattamente e voi cosa ne dite? lo vorreste nella vostra città? io sinceramente non vedo l'ora se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un like ed un commento noi ci vediamo presto elettronauti e magari a bordo anche di queste cose ciao